You are the dancing queen, young and sweet Mercoledì 31 luglio la rassegna Mira al Teatro d'Estate nel Parco Mira al Fiore ospiterà Welcome to the Music con uno spettacolo proposto dal coro finalomonico Rossini che si propone in una versione particolare, quella del musico È uno spettacolo abbastanza nuovo per noi, frizzante, pieno di energia, pieno di musica che spero faccia anche ballare il pubblico addirittura, me lo auguro per noi è divertente questa cosa e naturalmente rimane impegnativa proprio perché non è esattamente nostra abitudine approcciare questo genere quindi per noi è sempre un bel banco di prova Welcome to the Musical è un concerto che vede protagonista il coro finalomonico Rossini di Pesaro e sarà affiancato da una band di musicisti, eccezionali musicisti composta da pianoforte Alessio Paolizzi, alle chitarre Marco Di Meo al basso Lucio Aiello e alla batteria Enrico Montanaro tutto questo accompagnato dalla voce della cantante solista Valentina Minniti e ripercorreremo un po' la storia del musical a partire dagli anni 50 con queste 6 storie di Leonard Bernstein e vari medli passando per il musical di Weber fino alle musiche degli Abba, quindi degli anni 90 sarà un concerto molto ricco e il pubblico in questo sarà anche accompagnato e guidato dalla professoressa Maria Chiara Mazzi che appunto ci guiderà con una guida all'ascolto all'interno di questo viaggio per rendere anche più consapevole il pubblico di quello che sta ascoltando Allora per l'acquisto dei biglietti oltre alla possibilità di acquistarli online su Viva Ticket c'è invece la possibilità di acquistarli direttamente al teatro sperimentale mercoledì dalle 17 alle 19 o direttamente al giorno spettacolo quindi di nuovo mercoledì dalle 20 in poi all'anfiteatro Mirafiore Allora per l'acquisto dei biglietti